Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di The Sims 4 Cani e Gatti e siamo nuovamente tornati qui da Alfonso Canestrelli. Alfonso io non ti conosco, in effetti Alfonso non conosce un cazzo di nessuno ma va bene, allora vi solitamente aspetto che si sveglino, ma è arrivata una notifica, ovvero che è iniziato il travaglio e Trudy sta scoppiando quindi a breve avremo i primi cagnolini da poter vendere ragazzi, la compagnia elettrica Landgrab ha staccato la fornitura oi oi, paga le bollette, 40 simoleon di bollette, adoro questa cosa, stra adoro ok, svegliati tesoro, paga le bollette, subito, accarezza e chiedi di andare a fare i suoi bisogni ancora, e... no, accarezza abbiamo fatto, chiedi di andare a fare i suoi bisogni lei vediamo, dai un dolcetto, dato che sta scoppiando, poi riempiamo nuovamente la ciotola Waffle ha imparato a fare la pipì all'aperto, meno male, nuova cosa, tra virgolette, di addestramento è diventato buon amico, ripulisci, ah lui dovrebbe anche mangiare, quindi facciamo un pasto veloce e mangiamo i cereali, come al solito, ripuliamo subito una, devo dire, una... lei ha paura della lavastoviglie, adoro una carovana molto ben, diciamo, ben attrezzata, c'è pure la lavastoviglie, adoro io ce l'ho in casa e nemmeno la uso, lui ha bisogno di fare una passeggiata ma aspetta, perché qui le ciotole sono piene e qui le ciotole anche loro dovrebbero fare, farsi una doccia in realtà allora io direi che possiamo fare così perché io li voglio tenere lì dentro e magari poi li faccio... no, li faccio uscire prima che arrivi quando dobbiamo vendere l'animale quindi li faccio uscire, li lavo e poi li vendo lui ha bisogno di fare una passeggiata allora, metti il guinsaglio e andiamo a farci la passeggiata con... oddio, ma Trudy è un po' ingrassata forse perché è incinta questa? la possiamo buttare noi? oioi, non c'è il... ok scusate, non c'è il cestino almeno non è qui ha messo il guinsaglio, bene, possiamo... magari ci cambiamo gli abiti cambia abito, metti il secondo, vai e magari... prova amore e poi... giratta il posto preferito adora, no, vuole fare una passeggiata andiamoci a fare una passeggiata protezione animali, nutri, fai un bagno, manda a casa vai a fare una passeggiata media, dai, non lunga ciao amore, quanto è bello bellino Trudy tra l'altro ragazzi, grazie per i commenti anche il commento di una di voi che è una ex addestratrice di allevatrice o addestratrice di animali che mi ha dato una vera e propria spiegazione sui Chihuahua e io questa cosa la adoro guardate lui che ci segue che carini no, ma io volevo seguire ok, leviamo questa cosa scusate seguiamoli stra, stra, stra belli ragazzi no, io ci voglio fare troppo una foto mentre camminano e... sì magari camminano però e... pronto? dai, camminate andate a fare una passeggiata l'avete già fatta? in realtà no stiamo ancora a facere ah, ok benissimo scusate io devo avvicinarmi e fare una foto adoro che teneri due foto ciao bellissima questa ok, ma Trudy sta sgravando oppure no? ok, sto facendo foto alla rinfusa adoro oh, qui c'è Candy Bear ma non è possiamo presentazione amichevole in realtà non è oh, qui c'è un gatto non è ovviamente modificata come l'abbiamo già modificata noi perché non l'ho modificata in questo colpo d'anca e glorifica i vantaggi del vegetarianismo si sa mai condividi idee discuti gli interessi speriamo che la nostra Trudy sgravi un po' e poi io direi che possiamo tornare a casa parliamo un po' con Candy Bear Candy è d'accordo grazie mille molto bene Candy è allegra amante della musica ed è estroversa in realtà potrebbe essere una buona compagnia lei eh ok, basta con questa con questa passeggiata torna su che bello questo posto questo Brinzeldon Bay dovremmo venire in questo posto per fare conoscenze quando ne abbiamo bisogno amore devi tornare a ca ah raga ho sbagliato come al solito perché noi abbiamo casa sì ma in effetti il nostro è il negozio allora sono tornato al negozio e ovviamente questi due cagnoloni sono praticamente usciti dalla gabbia giustamente guardate quanti animali ci sono allora fai un bagno a Lucky così lo puliamo noi abbiamo bisogno anche di mangiare in realtà e andiamo a fare il bagno con Lucky Lucky per favore grazie così poi vendiamo questi due animali e aspettiamo che Trudy faccia i cuccioli ciao occupiamoci dei nostri animaletti e poi li vendiamo eh ovviamente ma mi servo un computer per venderli oppure no compro una clinica no chiama per un servizio tremmo forse chiama per un servizio viaggia fai volontariato trasferisci l'unità familiare no compra compra animale su Instagram scatto una foto con di ma possiamo scattarci anche una foto no con gli animali no peccato amore ciao oh finalmente l'abbiamo pulito questo cane e poi fai un bagno a Eureka non che Eureka adoro ma Trudy iniziate amori ma state facendo vi state facendo le fusioni che carini ma lei tra un po' farà i cuccioli chi lo sa ok Lucky finalmente bello pulito pulito bravo amore e dai un gran dolcetto poi a Lucky eh vieni Eureka tocca a te venga venga eccoci laviamo anche Eureka forza e Eureka che problemi ha anche lei che problema c'è vediamo aspetta allora togliamo il dolcetto oioi ma Eureka è stupenda lavata oioi che bella ragazzi ah è affamata passeggiata breve ma puoi entrare allora ok allora sblocca vediamo se c'è diamogli un dolcetto a tutti e due scusa dai un gran dolcetto così magari e dai un gran dolcetto qua chi c'è c'è Waffle che potremmo in realtà si sta addestrando a dare la zampa ok dai un dolcetto a lui eccoci qua abbiamo dato un dolcetto sia a Lucky che a Eureka molto bene poi voilà vieni vieni addestriamo il nostro Waffle che carini e tu invece gioca vai gioca un attimo con Trudi anche Waffle è proprio il suo compagno ragazzi lascia le carini dai sbocciucchiamenti speciali no diamogli un dolcetto a tutti perché sono veramente bravi Loda e dai un dolcetto pure a lei e poi ragazzi andiamo a vendere praticamente gli animali ovvero come lo possiamo fare veniamo un attimo internet secondo me ricerca guarda cerca battute fai una ricerca no infatti stanno andando anche in casa socializza giorn ordina acquista 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 no altre scelte aspetta social segreti vampireschi scrivi barzelletti scrivi oioi come si fa internet esplora ricerca no no non so farlo come si fa a vendere un animale l'avevo già fatto scrivi barzelletti segreti vampireschi gioco unità familiare compro un negozio metti in adozione l'animale eureka che bellissima però eh mi dispiace un po' venderla però è il nostro praticamente il nostro lavoro ragazzi eh mi dispiace il festival dell'idiglio oioi abbiamo pestato la cacca oioi ma come si fa no vabbè ragazzi adoro questa cosa che pestano pure la merda adori ma trudy ce li vuole fare questi cuccioli dobbiamo venderli proprio perché stanno arrivando i cuccioli quindi ci serve spazio jade rose vorrebbe venire da te per passare del tempo vuoi davvero che eureka venga portato via sì mi dispiace ma in adozione cioè non non ci danno soldi però ok mi sa che ho sbagliato ragazzi mi dispiace per eureka fai un pasto veloce biscotti a forma di animale io jade l'avrei pure invitata a casa in realtà secondo me ora arriva la signora col trasportino e ci porta via eureka no ragazzi ma mi sa che ho sbagliato non la dovevo mettere e oddio che cosa vuole katrina caliente è lente per le adozioni katrina caliente oio guardate si sta portando via eureka ma in realtà ecco il trasportino cioè eureka è stato dato in adozione e portato via dall'ente per le adozioni va bene e però non l'abbiamo venduto ragazzi ho sbagliato proviamo dopo aver fatto pipì proviamo a vendere ok allora aspetta proviamo a vendere l'aki unità familiare compra una click compra un ristorante trasferisci va in vacanza ma metti in adozione no l'altra volta i cuccioli li abbiamo venduti unità familiare non mi ricordo come ragazzi oioi ma perché no io voglio voglio guadagnarci da questa cosa allora innanzitutto andiamo a fare pipì cos'è questa cosa no vabbè adoro questo è variato ora lui è triste perché ovviamente è amante degli animali e ok ho capito come si fa a vendere non mi ricordo quella si è fatta addosso grazie compra 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 una attività di volontariato no metti in adozione no io li volevo vendere una volta ci sono riuscito forse dobbiamo tornare a casa ragazzi per venderli può essere va bene vedremo nel prossimo episodio in realtà eh adesso speriamo che la nostra Trudy sgravi in tutto questo Wall-E e la presentazione è più amichevole così diventa nostro amico e già possiamo vediamo qui ok correggi due comportamenti cattivi e ovviamente adottiamo no lo facciamo diventare amico e lo adottiamo si vai tanto massimo tre abbraccio confortante e poi adotta si grazie lo adottiamo subito Wall-E va bene li facciamo anche un bagno ancora non è nostro si che carini adottando animali praticamente raga ovviamente nei commenti mi potete scrivere come si fa a vendere un cane cioè perché dobbiamo fare tutta sta pantomima per poi non guadagnarci nulla io ovviamente ogni volta che diamo in adozione un cane potrei aggiungergli dei soldi però non mi va vorrei farlo da solo ma quella che fa si accoppia con lei ma tutto a posto Trudy ma tu racconto una storia a Trudy ok lui era già abbastanza pulito in realtà racconto una storia a Trudy dovremmo andare anche a dormire quindi io lo metterei a letto potrei trasferire il tutto nella casa quindi magari il negozio lo manteniamo ma perché mi piace più questa cosa dell'adozione e dell'addestramento in realtà abbiamo raccontato una storia a Trudy Trudy ci vuoi ci vuoi degnare del tuo parto per favore ok velocizziamo magari riusciamo allora per ora abbiamo Trudy che è incinta guardate stanno sempre molto vicini Waffle che non è incinto ovviamente perché è un uomo e sta dormendo poi c'è Lucky che ci pisce in casa praticamente e chiedi chiedi di andare a fare i suoi bisogni e asciuga ovviamente anzi potremmo correggere abbraccia no ok non possiamo fare poi lei no gli ululati vediamo se possiamo correggere fai una ramanzina sulle sveglie magari riusciamo a correggere questo cattivo comportamento di Trudy e magari si dovrebbe ho saputo che proprio ora c'è una festa magnifica in un locale notturno sappiamo che lui ne ha voglia ed è anche sabato però ragazzi ha proprio sonno vediamo se riesce sì l'abbiamo fatto Trudy ha imparato a non svegliare i sim diventa compagno di due animali provamore cinque volte correggi quattro cattivi comportamenti allora possiamo dare un dolcetto giocare abbracciare così diventiamo compagni con lei accarezzare lui c'ha fame ragazzi mi sa proprio che c'ha fame e ci porta la ciotola te c'hai ragione ti ho buttato e ti devo trattare bene giustamente Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Bevi Tanto ci manca solo quello praticamente Sì che carino Altre scelte Si sta addestrando Su tante cose in realtà Amichevole altre scelte Vediamo Spazzola provamore Eccolo qui Quindi intanto riempiamo tutte le ciotole Così che i nostri cagnolini possono Mangiare Anche i nostri cani randaggi in realtà Però principalmente Deve mangiare Il nostro Wally Ma ha bevuto la pozione del sonno? Oioi dove l'hai lasciata? Che costa quella? E' qui Bevi Dove va? Perché è triste? Perché abbiamo Per aver perso un animale Sì ho capito Ok si sta bevendo La pozione del sonno Riesce a bersela Perché non funziona? Bevi Forza Basta Risvegliati Questa Riempi questa ciotola No ragazzi Ma ha dei problemi nel bere Ah ok Si è ripreso Alleluia Ok dove è Trudi Trudi E abbraccio confortante Perché siamo un po' tristi Dai un dolcetto Accarezza E c'era provamore Prima però eh E noi ci interessava Quel provamore Vediamo se c'è Accarezza C'è Con lui c'è Mi sa Parla con Incoraggia Waffle Ad accoppiarsi Ancora Vizia sul divano No no Con Trudi Con Trudi Dobbiamo fare Provamore Eccolo qui Dobbiamo diventare compagni con Trudi Raga Qui si è rotto qualcosa Secondo me No E no Vabbè chissà che cos'era Sì Ciusciino Riempi la ciotola Tra l'altro ragazzi Ma noi a che punto siamo Siamo al terzo Va bene Migliore amico degli animali E grande amico alterno degli animali Molto bene Dobbiamo mangiare Che cos'è No non è nulla Chiedi di andare a fare i suoi bisogni Ma Trudi ci può degnare di una cucciolata Oppure no Magari si Che dici Trudi Diventate compagni Sì È arrivato il momento No Voilà Molto molto bene Vai correggi Quattro comportamenti Cattivi comportamenti Allora Vediamo un po' Innanzitutto dobbiamo mangiare E Prendi gli avanzi Voilà Mangia Opla E poi magari ci mettiamo ad addestrare Un attimo Waffle Continua l'addestramento ragazzi Di Waffle Che deve imparare tutto Dai del cibo a Waffle Bellino Bellino che glielo dà dalla 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 sua tazza Adoro Molto molto bello E poi Prendi in braccio Anzi no lo chiamiamo Via Veniamo qui nel nostro punto di addestramento Vai qui Forza Alfonso Chiamiamo Waffle E quello C'ha sempre fame Ho capito Accarezza E poi Si sta addestrando In Parla Vai Quello si è addormentato Dovresti Riempire tutte le ciotole Magari sarebbe bello Se facessimo un altro punto In realtà Se Trudy ci desse Dei cuccioli Sarebbe ancora più bello Ha bisogno di un bagno Trudy Va bene ragazzi Comunque Trudy Prima o poi Questi cuccioli Ce li darà Voi ovviamente Mandatemi Un commento E scrivetemi Come si fanno a vendere i cani Perché io una volta l'ho fatto Ma ora Non so proprio da dove Da dove partire Da dove andare E ho bisogno di vendere i cani Perché dobbiamo fare spazio Per la cucciolata E niente ragazzi Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Siamo ovviamente Questa è il gameplay Di The Sims 4 Cani e Gatti Quindi Dobbiamo vedere Un po' la vita Con questi animali Come li dobbiamo trattare Come li dobbiamo addestrare Eccetera 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 Fatemi sapere Se questo episodio Vi è piaciuto Con un like Più like mi mettete Più mi rendete visibile Su Youtube E più posso crescere Col canale Perché siamo fermi A 735 iscritti E ovviamente Se non vi siete ancora iscritti Potete considerare L'idea di farlo Così da rimanere In contatto con me Potete anche attivare La campanella Per avere le notifiche Niente ragazzi Vi mando un bacio Al vostro video Ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Oipa Ciao a tutti